What do you mean you don't agree with me? Do you know who you're dealing with? E sotto le lettere d'oro erano scritte queste parole Niente di niente! Affare pofferbacco! Affare pofferbacco! Affare! Avrebbe arrivare qui fra, diciamo, dodici secoli! Cosa? Dodici secoli! Cosa? Dodici secoli! Cosa? Sei un po' in ritardo, lo sai? Dunque, io mi chiamo Lino Figlio di puttana! Parla figliolo, tu chi sei? Ehm, io mi chiamo Pu Blank de Blank, che mi farà fare a destra e a mano Temo che non sarà facile tira' da fuoco No pero no oh oh Un po' dilecazione Che via ne prima gli osti bis задач eh both Come puoi vedere Eh, eh. Ho indovinato il luogo É Tutti cygnano la p**** di qua e di là Perché sono tutti cerveli che niente cuscoli Tu vuoi essere tutto cerveli che niente cuscoli? Io non ne amo Ah no, è vero E allora come pensi? Beh, forse ce l'ho Ora sviluppa il muscol Quindi domattina di buon'ora cominceremo a orario pieno 8 ore al giorno 6 ore di lezione 2 ore di studio 6 ore di lezione E 6 ore di le... Da sentire tu Come ti salta in mente di andartene a Zonzo per la foresta Facendo venire quelli di azzo Bianchi e a tutti Avrai 4 note cattive Chiedo scusa signore Altre 10 note cattive Ma, ma signore, prima volta... Hai detto anche troppo Tu chi sei poi? Il nome è Lino E sono il più potente del mondo A bene ve lo dimostrerò Che diavolo stai combinando? Diciamo che ho improvvisato una bella tormenta Oh, togli te la do la testa Oh, andiamo, 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 su Oh, 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 oh Non esageriamo, non esageriamo Me l'hai proprio fatta, Martino Eh, già, hai vinto Anacleto, ti spiacerebbe fare un voletto fin là? Bene, allora, a tutto il resto penserà la mia magia Ehm, tuque, 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 tuque Mi sping me lights roul Like a red, baby lights roul Roul round, round Tu scing me lights roul Baby lights roul Like a red, baby lights roul Roul round, round, round Che... que... hai mai pensato di poter... P***o, scoiattolo? Enteri! Enteri! C'è l'Essere! Dunque, parla. Che cos'è tutto questo baccano? La paledizione! È sotto una cucina! Commetto che è stato quel vecchio caprone. Vieni, figliolo. Non sapevo che ci avrebbe messo nei guai. Troppo farbacco, magia nera della peggiora specie. Vieni, Caio, all'attacco! Sono un uccello, un uccello, un uccello! Adagio, ragazzo, non così in fretta, non così in fretta. È meglio che prima io ti spieghi la meccanica dell'alto. Dunque, queste si chiamano penne. Si può sapere da quando in qua sai tutto sugli uccelli? Ho compiuto studi approfonditi sugli uccelli. Mamma, esco! Dove vai? A farmi i cazzi miei! Non c'è logica spiegazione a una talma turbazione. Oh, che bel gufo in paglia. とesini c'è. All'altro, che problemi che direbbe. Accesità di sviluppare. Ololulu arrivo Colonnello dovrebbe dare un'occhiata qui Dove è andato? A fare Sous-titrage ST' 501